Coce, si comincia il girone di ritorno, domenica arriva Verona-Jesi, una formazione che con l'assenza di Brown ora cambia come caratteristiche? Cambia perché sicuramente Hesbruck e Marini avranno più responsabilità, perché credo che nessuno avrà la presunzione di sostituirlo, ma tutti alzeranno la propria personale a Sticella per dare il meglio di se stessi. Cambia perché probabilmente coinvolgeranno più Rinaldi vicino a Canestro, cambia perché probabilmente lasceranno più minuti della loro difesa uomo molto aggressiva a scapito di una zona più contenitiva, più tattica, per cambiare un po' le carte sulla partita, ma anche per preservare un problema di fallo o di fatica. È una Jesi sicuramente differente non solo dalla prima giornata, ma anche dall'ultima partita. Dobbiamo avere questa consapevolezza, dobbiamo avere questo senso di analisi degli avversari, il senso di analisi del valore della partita, di come può essere una trappola da punto di vista motivazionale ed emotivo, quindi sapendolo dobbiamo avere grande maturità, grande senso di responsabilità per prevenire delle eventuali trappole che vorremmo evitare sicuramente. In conferenza stampa hai fatto un passaggio molto importante sul pericolo della presunzione. Dopo cinque vittorie consecutive il pericolo potrebbe essere questo? Assolutamente. Io penso che debba essere ben definito quello che è la volontà di essere ambiziosi e di non cadere pericolosamente dentro a un vortice della presunzione, perché la presunzione ti porta a idealizzare quanto, ma non a concretizzare, e quindi puoi avere la testa distratta e puoi scivolare e inciampare ovunque. Penso che la presunzione sia uno dei nemici invincibili che poi può farti pagare dazio nel corso della tua stagione o a breve termine anche su una singola partita. Quindi è uno status che vorrei tenere lontano, è un nemico che vorrei tenere fuori dal nostro modo di essere, dal nostro spogliatoio.